In questo video, ragazzi, faremo il test della fontana Tornado dei Razzi Group. Questa spettacolare fontana importata dai Razzi Group, di cui vedete il logo qua sopra, grafica, carina, che rimanda al Tornado, rimanda al vento, ma la vera particolarità di questa fontana, ragazzi, è questa. È questa base rotante che ha in fondo. Perché, ragazzi? Perché questa fontana inizia emettendo un oggetto qua sopra, mettendo degli effetti da qua sopra, come una classica fontana, poi si accendono tutti dei tubi alla base e inizia a ruotare in una spettacolare girandola al suolo. Io, ragazzi, non vedo l'ora di vederla in azione perché è veramente una figata come concetto e sono super curioso di vedere com'è. Neck 58 grammi, non è male, sembra poco, ragazzi, ma io vi posso assicurare che la durata è lunga e che questo effetto di spin la rende veramente unica. E vediamola in azione. Inizia a tutto sommato delicata, ragazzi. Un altro tubo. Belli i colori. Bel verde, bel viola. C'è del crackling, forse? No. Starà partendo lo spin a terra? No. Ancora fontana. Un bel getto forte. Potente. Wow, sta partendo, sta partendo, sta partendo. Wow, che figata. Che figata, ragazzi. Andiamo più vicini. Che figata. Che spettacolo. Ragazzi, spettacolare questa tornata. Veramente molto, molto bella. Molto figa, ragazzi. Vedete che veramente, che bel prodotto. bei colori, un bel getto pulito, non si indiozza, è sempre molto, molto costante. Adesso dovrebbe partire l'ultimo tubo, forse. Sì, eccolo, bellissimo ritardo. Ultimo getto potente, vibrante. E poi partirà lo spin. Ed eccolo. Wow. Guardate, ragazzi, che spettacolo. Esageratissima. Esagerata. Va, va, va come va avanti a girare. Va avanti mezz'ora a girare. Di quanta potenza ha sviluppato. Bene, ragazzi, se volete sapere dove trovare questa bellissima fontana rotante, non avete che da andare nel link nel primo commento. vi rimanderà una mappa di tutti i negozi, i Razzigroup d'Italia e tutti i negozi che trattano materiali di Razzigroup d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.